Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura parliamo di sicurezza idraulica. Dopo l'alluvione in Emilia Romagna abbiamo cercato di capire quanto il territorio aretino sia esposto all'arrischio idrogeologico Casentino e Valdarno sarebbero le vallate più esposte. Allora iniziando dal Casentino abbiamo una situazione piuttosto critica a partire dal Prato Vecchio fino a arrivare a Ponte Aburiano e poi nel Valdarno con la Terina e Montevarchi. È con Giovanni Cardinali, già ingegnere capo della provincia di Arezzo oggi consulente per le grandi infrastrutture di Confindustria che cerchiamo di capire quanto il territorio aretino sia esposto al rischio idrogeologico. Dopo il disastro che ha messo in ginocchio l'Emilia Romagna gli esperti sostengono che ci sono molti territori dove potrebbe accadere la stessa cosa. Scorrendo la mappa aretina, secondo Cardinali ci sono comuni e vallate più a rischio. Altre, grazie ad opere che lui definisce virtuose, invece sono state messe in sicurezza. Nel 1999, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri io in quel periodo ero consulente tecnico nel Comitato Tecnico Scientifico dell'autorità di Bacino, furono previste casse di espansione per trattenere 27 milioni di metri cubi di acqua in caso di piena a Monte di Ponte Aburiano altre furono previste per Montevarchi di tutte queste casse di espansione non è stato realizzato assolutamente niente e sono passati 24 anni. Vorrei fare una considerazione in positivo la Valtiberina non è a rischio come è il Valdarno, la Valdichiana e la stessa Piana di Arezzo perché? Perché con la realizzazione dell'invaso di Monte D'Oglio è stata messa in sicurezza anche dal punto di vista del rischio alluvioni in quanto la diga di Monte D'Oglio come tutte le dighe che si progettano oggi tipo quella che ancora è da fare qui in Valdambra in vaso di Montalto devono avere usi plurimi, cioè laminare le piene, fare servizio idropotabile di acqua molto più pura rispetto a prelevarla da pozzi subalveo di sostenere le portate nei periodi di magra le portate cosiddette minimo vitali che consentono la permanenza della vitalità della fauna e della flora ittica poi dare energia elettrica e infine anche sviluppare un certo tipo di turismo tipo beardy watching Qui siamo nella Valdambra, ecco l'Ambra, che pericolosità? L'Ambra ha dato un contributo notevole all'alluvione di Firenze del 1966 perché registrando a Firenze 4.000 m3 al secondo di portata di piena eccezionale per cui si allagò tutto Firenze l'Ambra contribuì per 1.600 m3 al secondo perché è un bacino abbastanza particolare nasce qui sotto San Vincenti in provincia di Siena ed è contornato da numerose colline e tanti altri affluenti tipo il Lusignana questo qui di Badia Arroti che fra l'altro causò nel 2006 un'alluvione all'abitato di Badia Arroti e qui c'è da intervenire però c'è una realizzazione che chiamerei virtuosa molto positiva che è questa cassa di espansione che trattiene un milione di metri cubi d'acqua però per mettere in sicurezza sia la strada provinciale che l'abitato nella piana di Levane via del Bacio si chiama va bene, l'abitato di Levane occorre trattenere altri 2 milioni di metri cubi d'acqua e a questo servirà l'invaso cosiddetto di Montalto che in totale sono 5 milioni di metri cubi e che questo è stato progettato a livello di fattibilità per i 5 usi plurimi che ho citato prima Ancora a sicurezza idraulica è arrivato anche ad Arezzo il progetto navigare per tutelare per la prima volta sono stati così utilizzati dei gommoni per monitorare l'Arno Da Borgo a Giovi a Ponte Buriano in gommone per monitorare l'Arno ha così debuttato il progetto navigare per tutelare un inedito sistema per l'ispezione delle sponde nascoste lungo l'Arno infatti ci sono zone coperte da una vegetazione così fitta o talmente scoscese da risultare irraggiungibili è un progetto che permette di realizzare una specie diciamo di Google Earth del fiume in modo che i tecnici del consorzio abbiano proprio un vero e proprio video per fare i loro progetti riguardanti la manutenzione e sicurezza idraulica verificare gli accessi al fiume punti di criticità, prelievi elementi che si vedono soltanto dall'acqua il vantaggio di farlo in gommone e il rafting è che si vada per tutto quindi ciò che si riesce a fare in poche ore di gommone spesso è impossibile a piedi L'operazione è stata avviata su un affascinante quanto delicato tratto di Arno partendo dal punto in cui per dirla con Dante il fiume volta il muso agli aretini è un tratto che per noi interessa molto verificare dall'acqua proprio perché il tratto ai fiume è in un'erosione continua e le erosioni che poi causano scorscindimenti, causano delle frane che alterano un po' il flusso dell'acqua in ogni caso irregolare del flusso possono essere viste solo dall'acqua un tratto quanto mai difficile da raggiungere via terra che invece è stato accuratamente ispezionato dai tecnici dell'ente via acqua ci ha permesso di vedere molti punti che altrimenti non avremmo avuto assolutamente modo e soprattutto anche scoprire accessi che ci permetteranno di poter andare a fare manutenzione accedendo con i mezzi vicino all'alveo cosa che altrimenti sarebbe impossibile anche per poter risolvere criticità puntuali che abbiamo individuato in tutto saranno 20 km del fiume monitorati dall'acqua verranno esplorati altri due brevi tratti brevi non troppo ma insomma del Val d'Arno Fiorentino e alla raccolta di tutti i dati che abbiamo filmato e osservato verranno presi in considerazione per elaborare i nostri progetti di manutenzione dell'Arno di quest'anno solamente ieri la comune di Arezzo aveva annunciato l'avvio dei lavori di riqualificazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica primo step a Tortaia ed oggi arrivano queste immagini degli appartamenti in via Funghini ad averle scattate è stato il Datsunia il sindacato dei condomini che commenta si può vedere come sono rimasti i lavori incompiuti iniziati da due anni e come scarichi l'acqua piovana dalle terrazze si potrebbero aggiungere almeno una decina di situazioni di umidità all'interno delle abitazioni dove vivono anche bambini piccoli ma via Funghini non è l'unico immobile bisognoso di interventi consistenti per rendere gli alloggi vivibili si è creata conclude una tempesta perfetta nella quale non ci sono responsabili del degrado dell'edilizia pubblica mentre con il 110 si è finanziato chi una casa l'aveva con l'aggiunta del 10% per il disturbo e adesso parliamo di un'altra protesta che arriva in questo caso dalla Basso Casentino da Santa Mama dove dovrebbe sorgere un muro per mettere in sicurezza il passaggio a livello il 3 di luglio partiranno i lavori di costruzione di un muro che quindi non consentirà più agli abitanti di Santa Mama di poter uscire o entrare nell'abitato un muro per mettere in sicurezza il passaggio a livello di Santa Mama un'opera che ha già fatto storcere il naso ai residenti della piccola frazione del comune di Subbiano ma anche all'amministrazione procurerà sicuramente dei problemi di oggettiva pericolosità oltre ai disagi e oltre a una serie di problematiche all'abitato la pericolosità perché lì praticamente si tratta di un borgo storico un borgo stretto la cui viabilità è molto angusta all'interno e quindi in caso di emergenza e di necessità si creerebbe una pericolosità oggettiva per gli interventi dei mezzi di primo soccorso così come anche via d'uscita per qualsiasi altro motivo senza contare i disagi che si possono creare per il servizio della nettezza urbana per il trasporto scolastico quindi per tutta una serie di questioni che sono legate anche al servizio della cittadinanza Il comune di Subbiano da sempre contrario a questa chiusura si è già adoperato per presentare formalmente richiesta sia alla regione toscana che a LFI per impedire la realizzazione del muro Il comune ha proceduto con un ricorso al Presidente della Repubblica un ricorso straordinario contro questo provvedimento adottato dalla regione toscana ha inviato una diffida a tutti gli enti che possono essere interessati anche da questa problematica come anche alla prefettura e ho direttamente chiesto anche l'intervento del Presidente della regione toscana che mi ha dato la sua disponibilità quindi anche ad incontrare i cittadini a venire sul posto a verificare un po' la situazione Da oggi ad Arezzo invece è attivo il nuovo servizio di monopattini elettrici sharing gestito dalla società TR Mobility I monopattini possono essere presi da alcune specifiche aree contrassegnate da un bollino adesivo posto a terra che sono individuabili grazie ad un'app all'interno della cosiddetta zona di risosta vincolata ovvero il centro storico e i principali parchi cittadini andranno poi riconsegnati o in questione punti di sosta incentivanti anche questi mappati nelle applicazioni e con un adesivo mentre il monopattino è in uso resta la possibilità della sosta libera secondo ovviamente le regole del codice della strada ed ovviamente solo i maggiorenni possono fruirne una novità sottolinea l'assessore Alessandro Casi funzionale alla modello di città ecologica e smart che intendiamo perseguire e adesso andiamo a Bibbiena dove ieri si è parlato di Europa e riforme istituzionali con l'europarlamentare Nicola Danti l'Europa e le riforme istituzionali è stato questo il tema dell'incontro dibattito che si è svolto al Palazzo Comunale di Bibbiena presente l'europarlamentare onorevole Nicola Danti il quale ha parlato del presente e del futuro dell'Europa il presente dell'Europa è un'Europa che è fortemente impegnata a trasformare se stessa essere protagonista nel mondo che cambia perché l'Europa è ormai una piccola realtà nel mondo tante altre realtà sono economicamente più forti in crescita noi dobbiamo preservare le nostre ricchezze preservare il nostro futuro le nostre imprese le nostre aziende la nostra centralità nel mondo per far questo abbiamo bisogno anche di cambiare l'Europa non può stare in questa maniera ha bisogno anche di regole più semplici e ha bisogno di investire sul proprio futuro su alcuni settori strategici dal digitale all'economia verde all'innovazione tecnologica e a riportare in Europa alcune produzioni industriali che purtroppo non abbiamo ha portato la sua testimonianza anche il dottor Michele De Angelis presidente dell'associazione Arezzo per l'Europa diciamo che il titolo e l'argomento sono entrambi particolarmente stimolanti sì è compito proprio dell'associazione stimolare l'interesse per i temi europei l'abbiamo detto più volte le tematiche europee sono fondamentali anche per risolvere le problematiche del territorio abbiamo iniziato la scorsa settimana con una senatrice Raffaella Paita è stato un bellissimo intervento oggi abbiamo un relatore altrettanto importante con una grossa esperienza europea e vorremmo parlare di tematiche istituzionali di riforme con una persona molto competente Rezzo per l'Europa è nata prima del covid ha avuto ovviamente una grossa battuta d'arresto per la pandemia ma adesso stiamo riprendendo con veramente interesse per stimolare una visione liberale e progressista europea che possa essere poi portata in Italia è in programma per giovedì 8 giugno l'incontro convegno Genius Loci le molte voci di un luogo sulla costruzione collettiva del sapere locale sarà l'occasione per presentare le linee di ricerca messe a punto per la rigenerazione e la restituzione del parco del Pionta alla comunità di Arezzo si tratta infatti di uno dei parchi simbolo della città un luogo di storia e memoria oltre che fondamentale polmone verde urbano ricco il programma di appuntamenti aperte a tutta la cittadinanza che prenderà il via sin dal mattino con interventi una tavola rotonda ma anche una passeggiata nel parco workshop esperenziali ed esposizioni che si terranno durante la giornata al campus universitario di Arezzo dell'Università di Siena e adesso ci spostiamo in un altro dei parchi cittadini della città al parco Pertini dove domani nonostante gli atti vandalici subiti negli ultimi giorni è in programma l'inaugurazione del bar targato Menchetti è una sfida sociale prima ancora che imprenditoriale quella che Menchetti ha accettato aprendo un suo punto vendita all'interno del parco Pertini ad Arezzo per tutti gli aretini ancora il parco Giotto sarà aperto dalle 7 alle 23 sarà un modo per far vivere finalmente in ogni ora della giornata il polmone verde più bello di Arezzo così come accade in ogni capitale europea sì è un punto diverso dagli altri sotto tutti i punti di vista un punto diverso per lo cash per tipologia di vendita ci sono tante situazioni diversi chiaramente in questo caso qui c'è una funzione come hai detto te anche sociale perché non vuoi solo diciamo la parte con conè perché comunque sia l'attività la struttura è stata creata da loro vincendo un bando pubblico ma è stato fatto anche da noi diciamo una disponibilità resa una disponibilità nel fare vari eventi durante l'anno durante tutti i giorni che comunque sia convolga più fasce di età convolga più persone soprattutto per fargli vivere di più lo star fuori far vivere di più stare in mezzo al verde che è una cosa che il covid chiaramente ha un po' smosso di più le coscienze su questa tipologia di vita nuova da cambiare e che fuori chiaramente nelle grandi città è già è già una consuetudine perché insomma voglio dire i parchi sono vissuti veramente come una parte della giornata delle persone sono cioè se vai in città come Milano in un parco di queste dimensioni ci sarebbero dentro 7-8-10 attività 6 chioschi perché le persone lo vivono in maniera proprio come parte della giornata passare un'ora a due ore al parco e allora per questa grande apertura quali saranno i fuochi d'artificio che avete preparato ma i fuochi d'artificio diciamo che domani cercheremo di coprire tutte le facilità con l'offerta sicuramente non solo dal punto di vista della musica dal punto di vista diciamo per i bambini con gli omaggi dei palloncini ci saranno delle cose circensi che si muoveranno durante chiaramente tempo permettendo perché pensare ai primi di giugno di avere ancora una stagione così insomma non avrebbe creduto nessuno siamo pronti siamo preparati i ragazzi sono tutti carichi sanno benissimo quello che devono fare perché sono stati preparati bene e vediamo servirà il tempo come sempre io lo dico insomma il tempo è giudice e aspetteremo insomma servirà forse qualche mese in più per ottenere risultati e portarlo a un punto di brecchimento importante però siamo fiduciosi e per l'apertura ci saranno Omero in France e la Gina tutto pronto dunque nonostante un atto vandalico subito nei giorni scorsi da Menchetti sono stati tagliati i cavi di rete avevamo già mille problemi qui da risolvere perché in due messe e mezzo c'erano tante problematiche da risolvere poi insomma non ultima il danno che ci hanno fatto nella notte due giorni fa ci ha messo un po' difficoltà e ha rischiato di far saltare l'attività siamo riusciti a sopperire a questo danno non solo economico ma anche di tempo di lavoro idraulici elettricisti sono andati da fare e hanno rimediato loro a questo danno e ci ha fatto dare conferma l'ok per l'apertura totale domani e partiamo un premio nobel per la fisica protagonista al teatro Petrarca dell'ultimo appuntamento della rassegna Science Lab la nostra generazione deve affrontare una strada piena di pericoli e come di guidare la notte la scienza rappresenta i fari il premio nobel a Giorgio Parisi sul palco del teatro Petrarca per l'evento Clu di Arezzo Science Lab il festival di spettacoli teatrali su materie scientifiche organizzato dalla fondazione Guido d'Arezzo l'associazione culturale Lab e Feltrinelli Point come promuove la fiducia della scienza naturalmente non basta gli scienziati dicano fidatevi di noi il premio nobel per la fisica 2021 professore ordinario di fisica teorica all'università la sapienza di Roma ha proposto una lezione spettacolo mossa dal testo gradini che non finiscono mai vita quotidiana di un premio nobel scritto assieme a Pier Giorgio Paterlini e senza il quale certamente non avrei mai sognato di scrivere qualcosa del genere non sei stato in grado cioè con lui ho avuto quasi una cinquantina di ore di colloquio telefonico era un vecchio amico quindi parlavo tranquillamente come si parla un amico e poi lui ha preso e ha scritto il testo Giorgio Parisi ha svolto gran parte del suo lavoro in Italia proprio il premio nobel in più occasioni ha ribadito l'urgenza di salvare la ricerca nel bel paese è brutto dove andare via ed è ancora più brutto che questa emigrazione di italiani con la lave ad alto livello cioè che hanno fatto tutti gli studi che fanno mestieri molto delicati che richiedono una forte specializzazione non sia compensata da una immigrazione di persone allo stesso livello quindi i giovani scienziati in Italia non sono interessati a venire probabilmente meno i giovani tecnologi perché non ci sono le offerte di lavoro a Cortona si archivia con successo il primo fine settimana di Cortona Comics ci si prepara già un lungo fine settimana che sarà aperto dal concerto di Tananai nella chiesa di Sant'Agostino a Cortona oltre 100 opere da Topolino a Minni da Paperino a Zio Paperone e molti altri ancora non poteva infatti che prendere il via con un omaggio ad uno dei grandi maestri della Disney il primo weekend di Cortona Comics è stata così inaugurata la mostra di Giorgio Cavazzano che dal 1968 disegna ed illustra Topolino oramai viene considerata la nona arte il fumetto il fumetto è trasmettere emozione e trasmettere gioia e trasmettere capacità interpretativa io faccio disegno fumetti da tanti anni e sono il regista il tecnico delle luci il costumista insomma sono 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 completamente faccio parte di questo mondo e ti posso dire che la la fantasia non ha non ha nessun limite a Cavazzano anche il premio Iacovitti è la carriera nei cento anni della nascita con l'intervento della figlia Silvia e il video registrato da Vincenzo Mollica per Cortona Comics questo fine settimana Cortona è stato così un susseguirsi di appuntamenti incontri con gli autori e presentazioni di libri che hanno coinvolto il pubblico presente e i bimbi intervenuti è veramente un mondo trasversale che segue tutte le età e tant'è che noi tutta la settimana che viene fino al prossimo weekend dove ci saranno nuovamente i disegnatori avremo tutte le scuole della nostra zona presenti qui che interagiranno con la squadra del Comics Internazionale di Firenze quindi sarà una grande esperienza per tutti i nostri ragazzi abbiamo l'intenzione ogni anno di ripetere il Cortona Comics perché per noi è fondamentale soprattutto vedere anche tanti giovani che mettono a disposizione il proprio impegno la propria conoscenza del fumetto e quindi una grande realtà che può essere sviluppata Giovedì sera invece appuntamento con il concerto di Tananai che farà da preludio al secondo weekend della manifestazione dedicato questa volta a Tex Wheeler e ai supereroi chiuderemo credo con il botto perché il prossimo weekend avremo i maestri della Marvel Bonelli quindi supereroi Tex Wheeler venite perché vi divertite apriamo la pagina dello sport torna il Gran Galà degli sport da combattimento Le Stelle del Ring in programma per il prossimo 3 giugno torna il Gran Galà degli sport da combattimento Le Stelle del Ring uno degli eventi di kickboxing più attesi e partecipati della penisola organizzato dal team Iachini con i patrocini del comune di Capolona e di Subbiano L'evento giunto alla sua 25esima edizione è in programma sabato 3 giugno allo stadio comunale di Capolona e darà vita ad una giornata ricca di incontri tra atleti provenienti da ogni zona dell'Italia Questa è la dimostrazione di come con lo sport si riesca a fare gruppo e è proprio l'obiettivo dello sport fondamentale quello del fare gruppo lavorare in sinergia e ottenere dei grandi risultati La manifestazione troverà il proprio cuore nei combattimenti per l'assegnazione dei tre titoli italiani Abbiamo il titolo italiano nei pesi medi il titolo italiano nei super medi e nei super massimi Nardecchia contro Selicato Velea contro Agaliu e Ilias contro Corsetti E poi ci saranno anche altri incontri però Sì abbiamo altri 5 match da professionisti oltre ai titoli italiani Passiamo alla basket mercoledì 31 maggio alle 21 al Palasport Estra appuntamento con gara 4 della finale playoff per la promozione in Serie B Tramen Scuola Baschettarezzo e Sibe Gruppo Prato Dopo l'emozionante successo di gara 3 sabato scorso Lamen si è guadagnata il punto della 2-1 e cercherà adesso di provare a chiudere i conti Prato però ha dimostrato in più occasioni di avere le potenzialità per mettere in difficoltà il quintetto Aretino Lamen dovrà dunque provare a sfruttare tutto il supporto del proprio pubblico che già lo scorso sabato ha riempito ai gradoni della Pallasport Estra come in poche volte era successo nella storia della Pallacanestro Aretina Per questa gara 4 sarà possibile acquistare tagliani di ingresso a partire dalle 17 di mercoledì presso la segreteria della SBA fino ad inizio partita e dunque sino alle 21 Adesso andiamo a Rigutino dove da circa un mese sono in corso i lavori allo stadio Giussi Conti una struttura che ospiterà a partire da questa estate la prima squadra del Cavallino Per cercare di essere in tempo per il ritiro per dare una casa all'Arezzo Calcio alla prima squadra Stiamo realizzando due ambienti per il gruppo squadra circa 27 elementi che avranno ognuno la sua postazione il suo armadietto in modo che sia veramente si possa considerare diciamo un ufficio personale con ovviamente sanitari docce magazzini c'è un'area massaggi con tre lettini massaggio e una vasca per il ghiaccio c'è tutta una zona destinata allo staff femminile in modo che è completamente diciamo distaccata dalla parte maschile c'è una palestra che è direttamente annessa alla zona massaggi e diciamo ai due spogliatoi che è per metà coperta e per l'altra metà è semi coperta per sfruttarla nel periodo diciamo più caldo dell'anno e nei periodi meno piovosi per quanto riguarda invece sotto alle tribune dello stadio abbiamo pensato ad un'area video visto diciamo l'utilizzo che la squadra ne fa e una piccola area stampa durante la settimana se ci dovessero essere delle interviste o altro c'è la possibilità di accogliere anche la stampa verranno realizzati due campi da padel e un campo da calcetto c'è tutta un'area ludica compreso anche un bar pensiamo che per i primi di luglio riusciamo a dare tutto finito ad oggi i lavori procedono spediti e adesso abbiamo appena terminato settimana passata l'impianto di irrigazione a 35 irrigatori che è un impianto molto performante molto all'avanguardia e da questa settimana stiamo facendo la rete drenante del nuovo campo la rete drenante prevede dei tagli longitudinali quindi da porta a porta di una sezione più ridotta che corrono tutto lungo la lunghezza del campo in testata abbiamo previsto un collettore principale che raccoglierà l'acqua di tutti questi drenaggi longitudinali che poi convoglierà in un pozzetto e porterà via l'acqua in eccesso quando sarà comunque il periodo più oboso e di più oggi intense in Toscana noi un impianto di questo genere l'abbiamo realizzato già nel 2015 2016 a Fiorentina e Empoli i lavori si diceva questa settimana termineremo la rete drenante quella successiva inizieremo a riportare la sabbia che è il materiale principe per fare queste realizzazioni di sana pianta che porteranno via almeno altri 8-10 giorni dopodiché si potrà passare alla posa del prato pronto a pronto effetto che stimiamo comunque nella fine del mese di giugno primissimi di luglio ecco quindi metà luglio secondo me il campo sarà giocabilissimo ecco metà luglio 20 di luglio ecco il campo era più corto di 5 metri 6 metri quindi il campo è stato allungato fino a 105 metri da porta a porta come un campo regolamentare di serie A la larghezza è 66-67 quindi quasi come un rettangolo di gioco di serie A che è 68 metri questa per stasera era l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione arrivederci a